Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi iniziamo un'altra delle rubriche che vorremmo portare sul canale, quindi quello che vedete oggi è il primo episodio di questa rubrica. Volevamo parlare dei giochi trovati nei mercatini dell'usato e il primo che abbiamo trovato, ora poi vi spiego, vi racconto un pochino, saranno video brevi comunque per far vedere cosa riusciamo a trovare in giro, meno male, ogni tanto anche a noi capita, abbiamo trovato il gioco ufficiale di Jumanji, premetto subito che lo abbiamo comprato prima, un mese, un mese e mezzo prima del problema coronavirus e l'abbiamo trovato, non è un gioco niente di chi ha la fin fine divertente e veloce, però l'abbiamo trovato in un mercatino dell'usato a Colle e Salvetti nelle vicinanze appunto di Livorno e per quello che l'abbiamo pagato secondo me è anche molto carino, ve ne parlo a breve dopo la sigla. Chi è che non ha visto Jumanji? Chi è che non ha adorato la storia? Soprattutto il povero e compianto Robin Williams in un film che secondo me è stato veramente uno spettacolo e ci siamo cresciuti, oddio, quando uscite ero già abbastanza grandicello, però ci siamo cresciuti tutti quanti ed è un film sempre piacevole da vedere e molto, soprattutto è geniale, è molto interessante, perché quello che deve fare il film alla fin fine è divertire, però non soltanto, perché a volte diverti anche con qualche battuta, qualche cavolata, dove butti butti Jack Black, il film è sempre divertente, ti fa ridere, però ci deve essere anche un fondo di trama geniale e tutto quanto e Jumanji lo era, secondo me lo è, veramente molto. Siamo andati in questo mercatino dell'usato a Colle e Salvetti si gira, perché a me e mia moglie piace molto, per quanto io penso siamo gli unici sfigati che non trovano mai niente, niente, niente siamo arrivati e abbiamo visto, insomma, guardavamo un gioco, un po' fra tutto, insomma, le cose che avevano anche i mobiletti, soprattutto, e chi ci interessava prendere qualcosa per il suo parco e capitano qualche gioco da tavolo c'erano dei giochini da tavolo, c'era anche voodoo, però tutta roba che magari non ci interessava prettamente a noi ci capita questa scatola qui di Jumanji per due motivi il primo, ora tanto ve lo faccio neanche avvicino tenuta bene, è un giochetto del cavolo ragazzi, però tenuta bene edizione inglese è l'unica cosa però tenuta da paura, cioè nemmeno scantucciata, nemmeno rovinata cioè chi l'ha presa e l'ha portata al mercatino dell'usato ci aveva levato la pellicola e basta perché tenuta perfetta, quindi alla fin fine, bobellina costa poco, perché questo costa tipo 20 euro, una cosa del genere su Amazon e noi, come vedete qui sotto, ce l'abbiamo pagato 5 euro ora, ribadisco ancora una volta, sono sincero e onesto fosse costato già 10 euro, non l'avrei preso perché comunque è un giochetto tra l'altro è una versione economica di Jumanji non è quello vero che avete visto, che esiste la collector che si apriva di così e al centro c'era il diamante, il gioiello, quello che era questa è una versione molto economica e sicché costa 20 euro trovata 5, fosse stato tutto rotto a parte che ero curioso di provare un gioco di Jumanji non l'avamo mai fatto in vita mia e sicché abbiamo detto, sai che c'è? per 5 euro c'è, tenuto bene così, senza rovinato né niente è praticamente nuovo di zecca, prendiamolo, che se ne frega tanto vale, ogni tanto magari ci si fa una bella partita a Jumanji ed è veloce come tipo di gioco ma è anche, secondo me, molto divertente oltre che veloce perché il classico gioco dove c'hai le tupedine che devi muovere l'avete vista come in Jumanji tiri dadi, se arriva al doppio succede qualcosa in più ci sono le carte da giocare secondo me è molto carino e avrei preferito, ovviamente, grazie al cavolo trovare altro, però io non ci credo tante volte vedo anche post magari su gruppi cose del genere che deve essere una botta di culo disumana che uno fa ragazzi, portato via 15 euro HeroQuest dal mercatino dell'usato ma dove? che io in Toscana ne avrò girati 50 non ho mai trovato, ma no HeroQuest ma non ho mai trovato nemmeno la scatola di HeroQuest tutta rotta, senza niente dentro e lì è fortuna lì è capitare nel posto giusto al momento giusto perché sì, una volta invece mi è capitato di trovare a sedio magari un prezzo del cavolo sì, un po' rovinato però c'erano tutti i pezzi dentro o magari Battlemaster però sono veramente ragazzi no fortune di più perché devi capitare nel posto dove qualcuno gliel'ha portato e dove nessuno gioca i giochi da tavolo perché faccio l'esempio anche a Livorno, Pisa per non parlare di città più grandi come Roma o Milano lo porti in un mercatino dell'usato io penso ci sta una scatola di Warhammer ci sta tipo un minuto perché comunque c'è talmente tanto afflusso di persone che qualcuno lo riconosce quindi comunque è difficile se andare per mercatini dell'usato a cercare board game storici però a volte si trovano anche queste piccolezze qui perché anche V2 alla fine veniva a 5 euro non l'ho venuto a prendere magari mi hanno detto che era anche divertente però c'è Jumanji anche se non ci si giocherà mai però bellino anche da tenere così esposto con la scatola e tutto quanto tenuta perfetta che poi io e mia moglie siamo veramente maniacali fanatici perché se ci troviamo una screpatura rotta magari la copertina strappata non lo prendiamo ma manco gratis lo voglio siamo così c'è da facci nulla e sono buona vende un gioco per ricomprarlo se si è rotta la scatola e quindi ne siamo rimasti veramente molto soddisfatti e anche nel nostro piccolo insomma possiamo dire che per una volta qualcosina abbiamo trovato anche noi che poi alla fin fine anche dentro la scatola tutto tenuto ovviamente si vede che questo qui proprio l'ha preso gliel'hanno regalato e l'ha portato subito al mercatino dell'usato il regolamento piccolino a striscetta il tabellone di gioco tra l'altro anche questo abbastanza grande e vedete di qua con al centro la possibilità di metterci il giugliello tra l'altro ha fatto anche bene Migarba come colorate tutte che poi Jumanji la prima cosa che ricorda è un po' anche questo se vogliamo un po' un gioco dell'ok ma era lo stile dei giochi di quegli anni lì carte di gioco che vanno scansionate alcune c'è scritto una frase e cose del genere quindi anche molto carina come cosa il gioiello o quello che era va bene un plasticone non è sicuramente la versione più fedele però comunque bellina da mettere al centro e poi dentro ci sono i meeple poi c'era bellina a parte i personaggi e il dado c'erano anche c'è un rinoceronte all'interno e poi abbiamo degli adesivi e la clessidra quindi alla fine anche se la roba che c'è per un gioco come Jumanji un era sicuramente warhammer o cose varie però molto bellino e tra l'altro tenuto veramente veramente molto bene quindi non ho fatto l'affare della vita però per 5 euro secondo me assolutamente ci stava quindi fatemi sapere cosa ne pensate ma soprattutto lasciatemi dei commenti se qualcuno di voi ha avuto la fortuna di trovare qualche gioco ma non per forza capolavori anche giochi secondari però al giusto prezzo perché magari trovare un gioco che costa 50 euro e ti ha il mercatino dell'usata e l'hai trovata a 10 insomma è buona come cosa soprattutto però tenuta bene perché trovarla a 5-10 euro tutto rotto uno poteva dire vabbè Jumanji a 5 euro con la scatola un po' rovinata me lo piglio però insomma trovarlo nuovo così è stato secondo me un piccolo colpo ecco mettiamolo una piccola attacca la faccio anch'io fatemi sapere cosa ne pensate ragazzi ciao alla prossima